Siamo in diretta da una delle più belle località intorno a me da Velletri, il ristorante Il Momento, eccola qui! E come non si può dedicare qui a Velletri, nel cuore di Castelli, quella che potrebbe essere nominata un po' la sigla di Castelli, la famosa gita di Castelli. Ragazzi, siamo tutti assieme? Allora, innanzitutto, aiutatemi con le mani. Ragazzi, siamo tutti assieme? Allora, innanzitutto, aiutatemi con le mani. Ragazzi, siamo tutti assieme? Allora, innanzitutto, aiutatemi con le mani. Ragazzi, siamo tutti assieme? Allora, innanzitutto, aiutatemi con le mani. Se andiamo a dire, dai mi, dai mi La c'è il cielo, giù c'è il mio ornello Che non è un giugno, un po' più erano da cantare E per l'altro è un giugno, solo nei miei piedi Sono con l'altro, un mistero ci fa Devi fare la vita e passi l'ammazzare Sono meglio, dello champagne Vivi di queste lignie C'è mando al canna, al campo dei noè Tutti, a tutto spiano, soffri un po' di me Eccata, saccatevi, dammi, dammi E' la sera, il sale e stelle C'è mando al canno Se and'è un bel, dietro a me Se ne treva cantare Se and'è un giugno, risponde un ritornello che cosa mi ha sentito che cosa mi ha sentito Nani, Nani Gli stori d'onore qui a Pellegri sono anche il momento brava Antonella, nostra palmerina complimenti allora prendiamo la tua diretta anzi abbiamo una diretta che è arrivata a 2.700.000 visualizzazioni abbiamo fatto a Bagnaia se digitate Stornelatori Bagnaia potete vedere e questo ci ha fatto veramente piacere perché abbiamo fatto conoscere tramite la rete un paesino che sono circa 5.000 abitanti in provincia di Viterbo proprio per una diretta che abbiamo fatto con gli stornelli c'è una canzone romana si intitola Roma Forestiera che parla di quello che è successo appena finita la guerra le romane si sono innamorate di questi americani questi tedeschi alti, biondi e si sono un po' americanizzati non ascoltavano più gli stornelli ma le canzoni americane non si affaccevano più dal balcone per le serenate noi ve la vogliamo dedicare anche perché è molto bella molto ricchiabile soprattutto il ritornello molti di voi la conoscono come Nannarella in realtà il titolo è Roma Forestiera che belli tempi quando per l'urione c'era ogni giorno il suono di un pianino arpeggi di chitarra e mandolino e non si affacciavano dal balcone che era un modino semplice e mi scappero l'anno però la nostra vita è bontà io so che non è Nannarella e per te perché sei innamorata di questa musica bellissima ma perché e se scontare che sei romano e rispondare io carichino forte forte il bambino se la nannarella non si affacciavano più o di un po' il bar c'era la mia vita ma non ci sono più c'era il bambino perché c'era 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 la nuova nostra con le streghe e la non si affacciavano più dal balcone e la non si affacciavano più dal balcone e la non si affacciavano più dal balcone Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ciao, alla prossima diretta. Grazie.